Sembra proprio una tragica coincidenza, mentre in questi giorni nel Tribunale di Cuneo si sta svolgendo il processo a carico del Presidente e del Direttore di Produzione della Cometto per la morte nel 2007 di Livio Roccia, schiacciato da una parte del macchinario con il quale stava lavorando, nello stesso stabilimento è avvenuta un'altra morte bianca. Se però nel caso di quattro anni fa si trattava di un dipendente di una ditta esterna e non della Cometto, oggi a morire è un dipendente della fabbrica Borgarina. Silvano Giordano, operaio di 34 anni, residente a Fontanella di Boves, è infatti rimasto schiacciato tra due pale telescopiche, mentre venivano accoppiate con un movimento orizzontale. La dinamica esatta è comunque ancora in via di chiarimento, inutile, per quanto immediato, il soccorso dei colleghi del 118, che lo ha trasportato all'ospedale del capoluogo, dove il suo cuore ha smesso di battere nel giro di poche ore a causa delle gravissime ferite riportate. Oltre alla moglie, Silvano lascia anche un bambino di due mesi. Non appena la notizia ha fatto il giro dell'azienda, i lavoratori hanno dato il via ad un presidio contro gli infortuni sul lavoro, troppo ricorrenti nel nostro paese. Quindi, delegati e sindacati hanno chiesto un incontro con il prefetto, Patrizia Impresa, mentre sul luogo dell'incidente era già arrivato il primo cittadino, Alberto Valmaggia. Nel frattempo, l'azienda Cometto ha espresso la volontà di essere vicina alla famiglia del proprio dipendente, Silvano Giordane, di partecipare al dolore per la sua scomparsa, attendendo il completamento delle indagini per rilasciare nuove dichiarazioni.